Buongiorno, anzi buonasera, in questa giornata che già il sole un po' così sta scendendo mi fa ridere perché ho provato i trucchi che mi hanno regalato i miei figli perché oggi è il mio gene alatico, il mio compleanno ma mi conferma che sono assolutamente incapace di truccarmi quindi volevo dirvi che niente sono molto felice ringrazio tutte le persone che mi hanno fatto gli auguri su whatsapp, su facebook mamma mia, sembra un orsetto lavatore su whatsapp, su facebook che mi hanno telefonato, il droghiere che mi ha chiamato che mi fa gli auguri tutti gli anni volevo ringraziare i miei figli adorati che mi hanno regalato i trucchi il navaglio, il giubbotto, soprattutto tanto amore una bellissima torta, un po' di cioccolato e volevo ringraziare amici, vicini e lontani, corsisti, conoscenti e poi qualcuno di veramente speciale e quindi grazie, grazie, grazie a tutti per i miei 30 più 16, 46 anni un bacio, ciao